Torna anche quest'anno, come di consueto, Sport Days. Una manifestazione sportiva, ma non solo, giunta al suo diciottesimo anno di vita, diventa così maggiorenne una kermesse che permette a grandi e bambini di trascorrere delle ore di allegria, di sport e di spensieratezza, questa volta però non al Campoconi di Avellino, bensì a Parco Manganelli. Una nuova sfida per Sport Days che da oggi fino al 20 giugno sarà protagonista e sarà protagonista anche il nostro gruppo editoriale, infatti come negli ultimi anni Prima TV e Tele Nostra vi racconteranno l'evento in diretta dalle ore 18 fino alle ore 20 per i tanti eventi sportivi, le interviste ai protagonisti e le emozioni che solo Sport Days sa regalare. Si parte dunque oggi con il primo atto e con la presentazione e l'apertura della manifestazione con una sfilata dal Palazzo della Prefettura fino ad arrivare a Parco Manganelli con l'accompagnamento della fanfara dei Carabinieri. Appuntamento alle ore 18 in diretta, Sport Days sta tornando per 20 giorni assolutamente da non perdere.